Eccoci alla terza lezione di Blender, quindi come sempre avviamo il programma e clicchiamo su generale Per questa lezione ho aspettato un po' perché ho cambiato diverse volte idea sul progetto da realizzare Ma prima di parlarvene, quindi prima di cominciare con la modellazione, due brevi introduzioni, quindi due brevi informazioni La prima è che possiamo scegliere, quindi impostare noi, quale deve essere il modello che si apre quando clicchiamo su generale Quindi per impostazione predefinita Blender crea una scena con una collection, una camera, un cubo e una luce e con delle impostazioni predefinite Andiamo a vedere alcune delle impostazioni che possiamo modificare Quindi da destra andiamo su scena e qui abbiamo delle informazioni sulla scena Quindi abbiamo la camera, lo sfondo, il filmato, le unità Queste sono importanti perché potremmo voler cambiare le unità predefinite utilizzate da Blender In questo caso viene utilizzato il sistema metrico, possiamo passare ad esempio a quello imperiale Quindi avremo la rotazione in gradi, la lunghezza in piedi, la massa in pound, il tempo in secondi e la temperatura in Fahrenheit Passando a quello metrico invece avremo gradi, metri, chilogrammi, secondi e Celsius Queste sono le impostazioni predefinite, quindi diciamo che in generale per quanto riguarda la lunghezza Che magari è l'elemento che ci interessa maggiormente, lavoriamo quasi sempre in metri Quindi l'impostazione predefinita è in metri Se dobbiamo lavorare con elementi più piccoli, quindi potremmo impostare la lunghezza in centimetri La temperatura di partenza generalmente è Kelvin Quindi potreste trovare nelle vostre impostazioni invece che Celsius Kelvin Quindi potete andarla a cambiare da qui Potete andare a regolare le altre impostazioni Quindi magari potete rimuovere la camera Potete inserirne un'altra e cambiarne la posizione Quindi diciamo che possiamo andarci a regolare diverse impostazioni Scegliere tutte le impostazioni di partenza Magari possiamo scegliere anche la scala del cubo iniziale Ad esempio potrei cambiare i nomi E scrivere cubo E luce A questo punto abbiamo regolato le impostazioni iniziali Andiamo su file Predefiniti Salva questo come file di avvio Riconfermiamo, quindi salva questo come file di avvio A questo punto possiamo chiudere e riaprire Blender Avendo modificato l'elemento, il modello presente nella scena Potrebbe chiederci se vogliamo salvare Non è importante salvare il modello Quindi possiamo scegliere di non salvare A questo punto clicchiamo su nuovo file generale E vedremo che le impostazioni che abbiamo Sono quelle che abbiamo impostato Quindi cubo, luce, scritto in italiano Nella scena avremo gradi, metri, chilogrammi, secondi, celsius Quindi tutte le impostazioni che abbiamo cambiato Rimarranno per la scena generale Quindi nel caso in cui volessimo partire Ad esempio non è detto che dobbiamo partire necessariamente con un cubo Possiamo anche scegliere un cilindro come elemento iniziale Possiamo rimuovere il cubo Volendo possiamo anche partire con una scena Semplicemente con una camera e con una luce Quindi senza nessun modello iniziale Quindi ci basterà andare su file, predefiniti Salva questo come file di avvio E ci creerà ogni volta una scena generale Solamente con la camera e con la luce In questo modo magari se non ci servirà il cubo Non avremo bisogno di eliminarlo dalla scena Se poi per qualsiasi motivo Volessimo ritornare alle impostazioni predefinite di Blender Ci basterà andare su predefiniti Carica impostazioni di fabbrica E andrà a cancellare tutte le impostazioni che abbiamo cambiato E ripartirà con la scena iniziale generale Quindi con cubo scritto cube Luce scritto light Le impostazioni della scena Ritroveremo Kelvin come temperatura Quindi tutte le impostazioni che aveva Blender Quando lo abbiamo installato Seconda premessa Sul mio sito web Quindi andando sugli articoli che troverete collegati ai video Quindi da YouTube andate in descrizione Link articolo e troverete il link dell'articolo Come vi avevo già detto nel video precedente Troverete il file da scaricare Quindi da download Troverete il file con la lezione Quindi vi basterà cliccare su scarica Per avere i riferimenti e il file Blender Ma ho dimenticato di dirvi che se volete Potete inviarmi i vostri lavori Quindi le vostre creazioni Potete inviarmele all'indirizzo email In formato jpeg o png Quindi create il rendering La salvate e me le inviate E le pubblicherò sotto i video Quindi ad esempio Nella lezione 2 abbiamo creato una libreria Se mi inviate le librerie create da voi Le inserirò sotto questo video Quindi andrò a modificare questo articolo Con i vostri lavori Se volete e avete un sito web Posso mettere il link al vostro sito web Altrimenti nome Username Quello che preferite E pubblicherò i vostri lavori In ogni articolo Quindi per quello che stiamo creando adesso Se volete nella lezione 3 Ci sarà ancora una volta lo spazio Per i vostri lavori Potete inviarmeli E li caricherò Premesse finite Andiamo a vedere qual è il modello Che andremo a creare in questa lezione Avevo diversi dubbi Inizialmente ne avevo scelto un altro Poi ho preferito spostarmi sul pendolo di Newton Queste sono delle immagini prese da Amazon Quindi abbiamo delle immagini di riferimento In questo caso sono meno precise rispetto a quello precedente Perché non abbiamo un'immagine In realtà questa potrebbe essere quella laterale Una proprio frontale Una proprio frontale non ce l'abbiamo Questa è più o meno di tre quarti Quindi non può essere utilizzata come immagine frontale Quindi per questo video lavoreremo senza riferimenti Quindi abbiamo queste immagini che possiamo utilizzare per guardarle Ma non le utilizzeremo all'interno di Blender come riferimento E poi abbiamo l'ultima immagine Che è questa Quindi vi ho inserito anche un file di testo Con le dimensioni prese da Amazon Quindi 18x18x15 Quindi la lunghezza e l'altezza sono di 18 E la profondità è 15 Possiamo vedere che di base è composto da una base Quindi abbiamo potenzialmente un cubo da dover un po' arrotondare ai lati C'è una placca centrale che ha un effetto specchio Quindi abbiamo un cubo Poi abbiamo delle parti in metallo cilindriche Abbiamo dei cavi che vanno a reggere le sfere E poi abbiamo 5 sfere Quindi sono 1 2 possiamo considerarli insieme 2 elementi 3 i cavi E 4 le sfere Quindi 4 elementi diversi Iniziamo quindi subito con la modellazione Se avete due monitor potete utilizzare il secondo con i riferimenti Quindi potete spostare le foto sul secondo monitor e utilizzarle come riferimento In alternativa potete anche caricarle in blender Come vi ho detto non saranno precise Non saranno utili per modellare il vostro modello direttamente sulla foto Però magari vi potranno essere di aiuto Nel nostro caso andiamo proprio a modellare senza quindi un riferimento alle spalle Ritorniamo sulle impostazioni del modello Quindi non ci interessano quelle della scena Siamo sul cubo Andiamo a creare la base Abbiamo le dimensioni del cubo Non abbiamo nelle informazioni Le informazioni totali del cubo Quindi non sappiamo Della base scusate Quindi non sappiamo esattamente Quanto è alta la base Sappiamo quanto è lunga E quanto è profonda Quindi sappiamo che la lunghezza della base è di 18 cm Quindi 18 cm in questa direzione Quindi abbiamo la barra verde Y Y sarà 18 cm Sappiamo che la profondità Quindi la barra rossa X È di 15 cm Non sappiamo l'altezza Ad occhio direi che potrebbe essere tra 1 e 2 cm Quindi andiamo ad inserire 2 cm Andiamo sulla vista X Zoomiamo un po' E spostiamo la base Sopra la linea verde Ok Quindi abbiamo regolato le impostazioni iniziali della base Ora ci sono due aspetti importanti Il primo è che la nostra base è troppo diciamo spigolosa Troppo Troppo poco arrotondata Diciamo che nella realtà pochi elementi sono così lisci Cioè hanno un angolo di questo tipo C'è sempre una leggera smussatura Anche minima Ma nel nostro caso La smussatura Vediamo È abbastanza evidente Quindi assolutamente Mettiamo in primo piano Assolutamente c'è un'enorme differenza Quindi la prima cosa da fare è andare a smussare La nostra base Per farlo possiamo utilizzare dei modificatori Li troviamo su questa scheda Quindi troviamo modifiers Proprietà modificatore Se clicchiamo ovviamente dobbiamo essere sicuri di aver selezionato l'elemento corretto Quindi il cubo Clicchiamo su aggiungi modificatore E abbiamo un elenco di modificatori da utilizzare Vi anticipo alcune informazioni Quelli presenti in genera Diciamo che sono i modificatori più semplici da utilizzare Perché si applicano direttamente sul modello stesso Quindi non richiedono ulteriore lavoro Sì dovremo poi andare a regolare le impostazioni Ma una volta applicato il modificatore Diciamo che il risultato è evidente immediatamente Quelli presenti su deforma potrebbero richiedere delle impostazioni extra Ad esempio se io selezionassi curva Avrei bisogno anche di un elemento che va ad indicare Quale curva Come deve essere la curva Quindi dovrei comunque collegare altri elementi Quelli relativi alla fisica Vanno a dare un elemento Un peso all'oggetto E diciamo che al momento non ci interessano Nonostante le sfere teoricamente hanno un peso Quindi potremmo utilizzare collisione Potremmo usare corpo morbido Potremmo usare diverse di queste impostazioni Ma siamo ancora alle prime lezioni Quindi non vedremo questi elementi della fisica Andremo semplicemente a modellare questo nostro modello Quindi questo pendolo Quindi siamo su aggiungi modificatore Concentriamoci sulla parte relativa a genera Quindi per il momento ignoriamo tutto il resto Siamo su genera Abbiamo smussa Quindi clicchiamo su smussa E vediamo che già il nostro modello ha cambiato forma Ma ha perso totalmente gli angoli E non è assolutamente quello che ci serviva Su smussa abbiamo la possibilità di andare a regolare le impostazioni Quindi possiamo passare ad esempio a vertici Spigoli Possiamo andare a scegliere il tipo di spessore Per il momento proviamo a modificare semplicemente i segmenti e la quantità Al momento abbiamo creato un segmento Proviamo ad aumentarli 5 Anzi anche 6 Vediamo che adesso è molto più smussato Quindi è molto più arrotondato E si avvicina quasi a quello che avevamo Ma in realtà è ancora troppo smussato Quindi andiamo a ridurre leggermente Vediamo cosa succede invece cambiando la quantità Vediamo che cambiando la quantità Va a smussare più parte del nostro modello Quindi andando a ridurre ad esempio a 0,1 Andrà a smussare 0,1 Partendo dall'angolo quindi conterà 0,1 per la smussatura Più andiamo a aumentare Più la parte smussata aumenterà Quella del modello ovviamente Quindi aumentando la quantità fino alla lunghezza dell'intero modello O superandola andremo a smussare completamente il modello Quindi diciamo che 0,1 potrebbe essere anche troppo Quindi forse 1,0,02 E riportiamo a 6 i segmenti Ci può dare una smussatura Simile, molto simile a quella che ci serve Proviamo con uno 0,03 Forse è ancora meglio Quindi abbiamo creato la base smussata Andiamo ora a creare al suo interno La parte che poi conterrà diciamo lo specchio Quindi abbiamo già visto nel video precedente Come modificare parte dell'oggetto Quindi passiamo dalla modalità oggetto alla modalità modifica E andiamo a creare dei tagli Partiamo dal centro Qui non abbiamo preciso le dimensioni del taglio Quindi non sappiamo bene In quale punto andare a fare questo taglio Quindi andremo ad occhio Quindi partiamo sempre dal centro Teniamo premuto il tasto sinistro E ci spostiamo Forse un po' troppo Allora per il momento lasciamo qui Abbiamo la possibilità di modificare il fattore Vediamo con un fattore di 0,4 Può andare E l'altro taglio dovrebbe essere preciso Quindi lo andiamo ad inserire qui Forse non è proprio precisissimo Qui c'è un po' più di spazio CTRL Z e annulliamo E andiamo a spostare Qui Lasciamo Qui abbiamo un fattore di Meno 0,194 Ma andiamo a vedere il mediano Qui Che ci dice che è 0,43 Sappiamo che dall'altra parte abbiamo tagliato di 0,4 Quindi mettiamo 0,4 anche qui A questo punto Creiamo anche un taglio In In orizzontale Questo perché Andiamo a riprendere la foto Vediamo che Ha una Piccola profondità Il nostro specchio Quindi andiamo a dargli anche Un po' di profondità Saliamo Leggermente Può andare bene qui A questo punto Spostiamoci sulla selezione Facce E selezioniamo La faccia Superiore E Le due facce laterali Andiamo su Estrudi E scendiamo Possiamo anche salire No Scendiamo leggermente In questo modo Abbiamo Incassato leggermente Questa parte A questo punto Andiamo su Materiali Vediamo Siamo sul cubo Andiamo su Materiale E Assegniamo Un nuovo materiale Lo possiamo chiamare Specchio Come colore Va bene Per il momento Anzi Andiamo a scurire Leggermente Vediamo Ok Selezioniamo Anche tutto L'oggetto E Creiamo Un ulteriore Materiale Quindi Clicchiamo Su più Nuovo Lo chiamiamo Base E gli assegniamo Un colore Nero Non sembra Avere assegnato Il colore Questo Lo andiamo a vedere Dopo Al momento Abbiamo Base E specchio A questo punto Andiamo a creare Le parti in metallo Che dovranno Poi Mantenere Quindi Che avranno le corde Che mantengono le sfere Per farlo Ci sono Diversi metodi Ce ne sono Sicuramente Migliori Rispetto a quello Che vedremo adesso Ma Come vi ho detto Anche nei video Precedenti Questo è Un Corso Base Di blender Quindi Non vi andrò A Far vedere Cose Troppo Complicate Altrimenti Magari Abbandonate Subito E' meglio Che prendete Prima Confidenza Con blender Con il funzionamento E poi Inizierete a fare cose più complesse Quindi non Andiamo a utilizzare Metodi complesse Perché possiamo Utilizzare la curva Andare poi A creare un riempimento Ma è troppo complesso Per il momento Quindi Lasciamo perdere Questa cosa Continuiamo con il cubo Quindi creiamo un cubo E' forse un po' Troppo grande Quindi andiamo a ridurre Le dimensioni Al momento 0,08 E' comunque Troppo Grande Andiamo su Dimensioni E possiamo Dire che Probabilmente L'altezza potrebbe La larghezza potrebbe essere Un centimetro Anche Y Quindi X e Y Forse pure troppo Vediamo Anche troppo Quindi 0,8 Centimetri Facciamo un 0,6 Centimetri E Anche Qui 0,6 Centimetri Andiamo sulla X Saliamo E portiamolo Più o meno qui Andiamo più Sul bordo Allora Ancora un po' Vediamo dall'alto Siamo un po' Troppo nell'angolo Se vediamo L'immagine Siamo sì Sul bordo Ma non Così tanto Quindi Ad esempio Possiamo portarlo Qui Centriamolo un po' Anche se Nella realtà È abbastanza Sui bordi Però Lo abbiamo centrato Un po' Ok A questo punto Andiamo su Modalità Modifica Creiamo Un taglio E lo E lo creiamo Più o meno A questa Altezza Andiamo su Seleziona Selezioniamo Questa faccia E andiamo E andiamo su Estrudi E andiamo su Estrudi regione Ritorniamo Sulla vista Dall'alto E andiamo E andiamo a Estrudere Più o meno Fino ad arrivare Alla stessa Inferiore Possiamo spostarci Adesso Sulla vista X Andiamo Ad estrudere E scendiamo Qui non importa Possiamo anche scendere All'interno Della base E al momento Abbiamo creato La struttura Ma ovviamente È quadrata Non è cilindrica A noi serve cilindrica Quindi Siamo sul modello Temporaneamente Ritorniamo Alla modalità Oggetto Con l'oggetto Selezionato Andiamo su Modificatori Andiamo su Aggiungi Modificatore E andiamo a Selezionare Suddivisione Superficie Decisamente Non è La forma Che volevamo Direi che È abbastanza Evidente Vediamo Cosa possiamo Regolare Quindi intanto Possiamo passare Da Catmull Clark A semplice Ma vediamo Che semplice Ritorna esattamente Come prima E anche Modificando Le opzioni Non cambia Assolutamente Nulla Quindi Ritorniamo Su catmull Clark E Andiamo A vedere Cosa succede Invece Cambiando Le impostazioni Quindi Level Viewport Andiamo Ad aumentare Vediamo Che È più Smussato Il massimo È 6 Fermiamoci A 6 Per quanto Riguarda Il render È importante Andare A smussare Allo stesso Livello In questo Modo Quello Che vediamo Qui È quello Che poi Verrà Effettivamente Nel rendering Torniamo Nella modalità Modifica Vediamo Che abbiamo Un riquadro Intorno Andiamo Su taglia Vediamo Cosa succede Se andiamo A creare Dei tagli Quindi Teniamo Premuto Clicchiamo E teniamo Premuto Con il tasto Sinistro E andiamo A scendere Vediamo Che E la forma Ora cambia Quindi Possiamo Lasciare Più o meno Qui Sulla base Facciamo La stessa Cosa Per l'altra Base Creiamo Un altro Taglio E ora Andiamo A salire Facciamo La stessa Cosa Dall'altra Parte E andiamo A salire Vediamo Che ora È Molto Più Arrotondato Ovviamente Possiamo Fare La stessa Cosa Volendo Anche Qui Se vogliamo Togliere Ritorniamo Modalità Oggetto E vediamo Il risultato Come vi ho detto Ci sono Altri metodi Probabilmente Migliori Rispetto a questo Ma Sono troppo Complessi Quindi Per il momento Ci accontentiamo Di questo metodo Allora Diciamo che L'altezza Forse Non è Precisa Quindi Andiamo A Regolare L'altezza Vediamo Se possiamo Farlo Con scala Possiamo Salire Senza Rovinare Tutto Andiamo Sulla Vista Frontale Scaliamo Un po' E portiamo Su Ok Un po' Si è rovinato Quindi se ritorniamo Sulla modalità Modifica Anche perché Scalando Si è alzata Questa parte Decisamente Non è Quello che Volevamo Annulliamo La scala E proviamo Invece Con Modalità Modifica In realtà Probabilmente Questo avremmo Dovuto farlo Prima Comunque Andiamo a Selezionare La base Andiamo Sulla X E andiamo A distrudere Vediamo se Si può fare Senza cambiare E anche in questo caso Andiamo a distrudere Allora Qui Ho preso Un vertice Quindi Andiamo Sulla faccia Inferiore Ed Estrudiamo Ok Andiamo Adesso A creare Nuovi tagli Sulle basi Perfetto Ritorniamo Alla modalità Oggetto Abbiamo Allungato L'oggetto Senza andare A deformare Troppo La forma Cubo 1 Non va Più Bene Possiamo Chiamarlo Arco Metallico Selezioniamo Selezioniamolo Control C Control V Andiamo A duplicarlo Va bene Arco Metallico 01 E andiamo Sulla Z Superiore E andiamo A trascinarlo Dall'altra parte Più o meno Alla stessa Distanza Dal bordo Ok Questo è quello Che abbiamo Per ora Creiamo Anche in questo Caso Un materiale Quindi Nuovo Materiale Metallo Per il momento Possiamo aumentare Un po' Metallico Andiamo A cambiare Un po' Scuriamo Un po' Il colore E Applichiamolo Anche All'altro Arco Quindi Metallo Ora Dobbiamo Creare Le corde Che vanno Poi A mantenere Le sfere Ma Facciamo Il contrario Quindi Le corde Le andremo A inserire Dopo Andiamo Ad aggiungere Le sfere Quindi Andiamo Su Mesh Sfera UV Ovviamente Sono troppo Grandi Sono Due metri Per due Metri Probabilmente Vediamo Con Due Centimetri Due Centimetri E due Centimetri Forse Troppo poco No Forse Può andare Andiamo Sulla vista X Possiamo scendere Un po' Forse No In realtà Forse Sono troppo Grandi Ancora Quindi Andiamo Su 1,5 Centimetri 1,5 Centimetri E 1,5 Centimetri Ok A questo punto Dobbiamo crearne 5 Possiamo fare In due modi Abbiamo la possibilità Di andare su Modificatore Sequenza E Crearne Andiamo su Le ho create Sull'asse Sbagliata Ovviamente L'asse È quella Verde Quindi la Y Quindi 0 1 Andiamo Sulla Vista X Questo Però Ci Collega Tutte Le sfere Quindi Non ci Permette Poi Di Andarle A Modificare Una Per Una Volendo Ci sono Dei modi Ma Al momento Diciamo Che Non Andiamo A Creare Ovviamente Poi Possiamo Crearne Un numero Infinito Questo Può Essere Utile Nel Caso In cui Volessimo Creare Diversi Elementi Al momento Lasciamo Perdere L'utilizzo Del modificatore Sequenza Quindi Non Utilizziamo La sequenza Rimuoviamo E Duplichiamo Manualmente La sfera Quindi Abbiamo Sfera Copia Incolla Copia Ho fatto Direttamente Incolla Ok Ancora Incolla E Ancora Incolla Ok Quindi Abbiamo Le tre Sfere Andiamo A Farle Toccare Tra Loro Quindi Assicuriamoci Che Vadano A toccarsi Ma che Non siano Sovrapposte Forse C'è Troppa Distanza Qui Ok E Abbiamo quindi Inserito Le sfere Che forse Potrebbero Potevano essere Anche un po' Più grandi Ritorniamo Comunque Sulle Impostazioni Vediamo Il risultato Finale Probabilmente Avremmo potuto Smussarle Un po' Di più Allora Diciamo che Per quanto riguarda Le sfere Può andare bene Così Ora Andremo a creare Le corde Che vanno A unire La sfera Con Le Asse Con le Aste Di metallo Anzi Prima di farlo Andiamo ad assegnare Alle sfere Sono sul Modificatore Andiamo sul Materiale E andiamo ad assegnare Il Metallo Anche A tutte Le sfere Ok Andiamo ora A creare Quindi Le corde Che vanno Ad unire Assi Aste E sfere Possiamo farlo In due modi O Creiamo Direttamente Un elemento Quindi ad esempio Potrebbe essere Un Cilindro Che va A Unire I due Elementi Oppure Possiamo Andare A creare Un'estrusione Sulla Sull'asse Di metallo Quindi possiamo Ad esempio Andare Su Modalità Modifica E Creare Dei tagli In corrispondenza Andiamo Sulla Vista X Creare Dei tagli In corrispondenza Di Ognuna Delle sfere E andare A destrudere La faccia Questo È Un po' Più Complicato Quindi Utilizzeremo Ancora una Volta Il metodo Più Semplice Come vi Ho detto Questo Consideratelo Proprio Un corso Di base Quindi Stiamo Utilizzando I metodi Più Semplici Possibili Anche se non sono Sempre I migliori Sempre Quelli Più puliti Da utilizzare L'importante È Imparare Ad utilizzare Blender Poi faremo Un corso Un po' Più avanzato E lì Vedremo Delle tecniche Migliori Per il momento Non state A pensare A Questa è la tecnica Migliore Questa è la tecnica Più pulita Pensate Al risultato Quindi Vogliamo Ottenere Un risultato Visibile Quindi Andiamo A creare Dei cilindri Aggiungi Cilindro Ancora una volta Direi che È un po' Troppo Il raggio Lo andiamo A ridurre Vediamo Probabilmente È ancora Troppo Quindi Perché siamo Su Intanto Siamo su Arco Metallico Torniamo La modalità Oggetto Sì perché L'ho inserito In modalità Oggetto Ok Andiamo Scusate In modalità Modifica Andiamo in modalità Oggetto Quindi Lasciamo perdere L'arco Metallico E andiamo Su aggiungi Cilindro Ok Abbiamo Aggiunto Il cilindro Con Raggio 0,01 Che però È ancora Troppo Quindi andiamo A ridurre Più di così Non Scende Riduciamo La profondità Vediamo Possiamo I vertici Possono andare Bene così Andiamo Sulla Vista X E Saliamo Un po' Vediamo Sulla Vista Y A questo Punto Poi andremo A modificarlo Però intanto Ruotiamo L'elemento E lo andiamo A spostare Facciamo in modo Che vada Qui Quindi Che Con la parte Superiore Vada a toccare Questa L'asta Cilindrica E che vada Poi Verso La sfera Nella Foto Quindi Nel nostro Riferimento Vanno C'è Un piccolo Gancio Sopra Alle sfere Quindi Potremmo Crearne Uno Anche Noi Per il Momento Semplicemente Portiamo Queste Linee Sopra Alla Sfera Quindi Al momento E Diciamo Che può Andare Bene Quindi Va Sulla Parte Superiore Anche Se Forse Sarebbe Meglio Portarle Il più Possibile Verso La linea Blu Centrale Quindi Andiamo A ruotare Un altro Po Ruotiamo E portiamo In alto Forse Abbiamo ruotato Un po' Troppo Quindi Un po' Meno Siamo Su 36 E 8 Quindi Ruotiamo Di Meno 36 Scendiamo Ok Vediamo Potrebbe andare Ovviamente Dobbiamo Accorciare La Barra Quindi Sulla Z Andiamo A Ridurre Allora 0,15 Proviamo Intanto Con 0,1 Ritorniamo Sull'asse Y E Probabilmente È troppo Poco Sì Decisamente Proviamo Con 0,12 0,11 Andiamo Leggermente Più Centrati E Scendiamo Un po' Vediamo Diciamo Che Potrebbe Andare Bene Andiamo Ora A ridurre Leggermente La scala Di X E Y Quindi Non 1 Ma 0,8 Anche 0,6 E 0,6 Forse Anche 0,5 Non troppo Altrimenti Risulterà Praticamente Invisibile Ok Selezioniamola Copia Quindi Ctrl C Ctrl V Andiamo Su Rotazione E Cambiamo Da Meno 36 A 36 E Con La posizione Togliamo Anche qui Il meno E Avremo La L'asta Spostata Sull'altro Lato Ok Iniziamo un po' a pulire La parte Della collection Perché cominciano a esserci Tanti elementi E diventa Complicato Creiamo Una La Creata all'interno Della precedente Ok La collection Uno La chiamiamo Sfere E Spostiamo Tutte Le sfere Al suo interno Mettiamola In basso Possiamo Creare una collection Con I cilindri Che Che però Possiamo Chiamare Chiamiamoli Archi Ok Quindi abbiamo Spostato No In realtà Gli archi Metallici Sono Questi Io ho Spostato Le due Corde E Anzi Creiamo Una nuova raccolta La chiamiamo Corde E Spostiamo I cilindri Al suo interno E I due archi Li spostiamo Qui Quindi In questo modo Abbiamo un po' Ripulito La scena E Cubo Lo possiamo Chiamare Base Andiamo Quindi su Corde E Selezioniamo Le due Corde Ancora una Volta Potremmo Duplicarle Con I Modificatori E Creare Una sequenza Non lo Facciamo Andiamo Semplicemente A fare Copia E Incolla Andiamo Sulla Vista Z Quindi Dall'alto Selezioniamo Entrambe Copia E Incolla E Andiamo Su Un'altra Sfera Copia E Incolla E Andiamo Su Un'altra Sfera Copia E Incolla Ancora Copia E Incolla E Andiamo Sull'ultima Sfera Ok Andiamo Adesso A creare Un piccolo Cilindro Al centro Delle sfere In modo da Unire I cavi Quindi non far Vedere che Entrano Direttamente Così Nelle sfere Quindi Assicuriamoci Di essere Modalità Oggetto Deselezioniamo Tutto Il cilindro Lo possiamo Inserire Nella collection Delle sfere O in quella Delle corde Dove Preferiamo Quindi andiamo Su aggiungi Cilindro Può andare Bene Ma Dobbiamo Ruotarlo Sull'asse X Quindi Rotazione X Allontaniamoci In realtà Lo sta Ruotando Zero Ok Ruotiamo Sull'asse Y Di 90 gradi Portiamolo In alto Andiamo Sulla Vista X Non Va bene Andiamo Sulla Vista Y Perfetto Quindi Dobbiamo Assicurarci Adesso Che il cilindro Come lunghezza Abbia Da Questa corda A questa corda Quindi Al momento È troppo lungo Andiamo a scalarlo Vediamo la freccia rossa Quindi scaliamo Sull'asse X Scaliamo Sull'asse Y Vediamo che Ok Scaliamo anche Sull'asse Z Scendiamo Leggermente Al momento Non è allineato Perfettamente Quindi Vediamo Intanto Si è deformato Troppo Allora Io direi Che Meno 900 È troppo Proviamo 0,2 No 0,4 Facciamo anche 0,6 E 0,6 Ok Vediamo In questo caso Possiamo Portarlo un po' Più Giù Ok Forse Andrei ad ingrandirlo Leggermente Quindi facciamo Un 0,65 0,65 Ok E Ritorniamo Sull'asse Z E lo andiamo A duplicare Per Tutte le altre Sfere Copia Incolla Scendiamo Ritorniamo 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 Copia e Incolla Spostiamo qui E Copia e Incolla E lo spostiamo qui Questo È Il Risultato Temporaneo Andiamo Andiamo ora Ad applicare Tutti I materiali Quindi abbiamo I cilindri Selezioniamoli tutti Questi appena creati Andiamo su Materiale Aggiungi Metallo Metallo Non lo ha Aggiunto in automatico Metallo 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 E Metallo Le sfere Già Hanno Il materiale Metallico Applicato Andiamo a vedere Gli archi Se hanno Il metallo Entrambi Perfetto Le corde No Per quanto riguarda Le corde Possiamo utilizzare Un Materiale Diciamo Potrebbe essere Nylon Quindi Materiale Lo chiamiamo Nylon E Un bianco Un po' Più scuro E Lo andiamo Ad applicare Anche a tutte le altre Quindi Applichiamo Lo stesso Materiale A Tutte le Corde Ok Temporaneamente Il risultato È Questo Con il rendering Finale È qualcosa Di Simile A questo Ovviamente La base Ancora Non ha Materiale Funzionante Attivo Quindi Ritorniamo Su questa Visuale E andiamo Sulla base Per il momento Disattiviamo Lo specchio Quindi Rimuoviamo Il materiale Specchio E abbiamo Il materiale Base Che ora Funziona Possiamo vedere Che la base Ora è nera Vediamo se Qui Si vede Meglio Ok Andiamo Su modalità Modifica E selezioniamo Di nuovo Le tre facce Che Dovrebbero essere A specchio Quindi Le selezioniamo Andiamo a Selezionare Specchio E clicchiamo Su assegna Ha tolto La base Quindi Andiamo a selezionare Base Vediamo Lo specchio Lo rimuove Clicchiamo Su più E impostiamo Specchio Ok Andiamo adesso A riselezionare I materiali Scusate Le facce E clicchiamo Su assegna Specchio Ovviamente E assegna Ok Abbiamo Assegnato Il materiale Specchio Andiamo a vedere La vista Dalla camera Direi che siamo Abbastanza Lontani Quindi Andiamo su Materiali Su Oggetto In realtà Spostiamoci un attimo Usciamo dalla vista Camera E andiamo a cercare Proprio La camera Eccola Togliamo La selezione Selezioniamo La camera Siamo in modalità Modifica Andiamo in modalità Oggetto E Andiamola Ad avvicinare Andiamo nella vista Camera Siamo Laterali Quindi possiamo Andarci a Modificare La posizione Della camera Sta spostando La base Un attimo Che Reimposto Tutto Ok Usciamo dalla vista Camera Siamo Perché era Selezionata La base Ok Ora abbiamo Selezionato La camera Andiamo ad Avvicinarla Ok Adesso Modificando La posizione Modifichiamo Quella della camera E non Quella della base Riusciamo Riusciamo E vediamo Se possiamo Avvicinarla Ancora un po' Ok Andiamo in vista camera Ora siamo Ora siamo un po' Troppo Avanti Quindi Spostiamoci Un po' Ok Stiamo Andando a Centrare L'oggetto Sulla vista Assicuriamoci Di essere Sempre sulla vista Camera In basso Abbiamo Data Ma Possiamo Raggiungerlo Anche Cliccando Sull'icona Della camera O da qui O aprendo E cliccando Su camera Da qui Abbiamo Diverse Impostazioni Della Proprio Dell'inquadratura Della camera Quindi La prospettiva Ortogonale Panoramica La lunghezza Focale Lo scostamento L'inizio del taglio La fine La profondità Di campo Possiamo regolare Tutte le impostazioni Della camera Non andiamo A Lavorarci Troppo Andiamo Su alcune Impostazioni Quindi Andiamo Sulla lunghezza Focale Aggiustiamo Un po' Lo scostamento Andiamo ancora Con lunghezza Focale Scostamento Ok L'inquadratura Ci può stare Può andare Bene Così Quindi Usciamo Dalla camera Vediamo Che si è Allungata L'inquadratura Andiamo Sul render E renderizza Immagine Vediamo Per il momento Il risultato È questo Diciamo Che Teoricamente Dal punto di vista Della modellazione Potremmo Accontentarci Potrebbe Andare bene Così Ma Vediamo Un po' Come funzionano I materiali Quindi Abbiamo visto Che Selezionando La base Qui siamo Su Andiamo su Materiale Selezionando La base Possiamo gestirci I materiali Ma possiamo Gestirli in maniera Migliore Spostandoci Sulla scheda Shading Quindi andiamo Su shading Andiamo A Aumentare Lo zoom Sul nostro Oggetto Ok E qui In basso Abbiamo I nostri Materiali Cioè Quello che Potevamo Vedere Nella scheda Materiale Vediamo Quello che Potevamo Vedere Da questa scheda Lo troviamo Anche qui Possiamo Muoverci All'interno Di Questa Schermata Nello shading Quindi tenendo Premuto Il tasto Centrale E Trascinando Con il tasto Sinistro Andremo a Selezionare Con il tasto Destro Possiamo Aggiungere O incollare Effettuare Altre operazioni Quindi quello che Ci interessa È La rotella Giù Per Allontanare In alto Per avvicinare Teniamo Premuto La rotella Per Spostare Qui Siamo Sulla Sullo Specchio Quindi abbiamo Possiamo Vedere Da qui Specchio Se andiamo Su base Possiamo Vedere Base Andiamo Su specchio Per il momento E abbiamo Il colore Di base Facciamo Click Su Aggiungi In ingresso Possiamo Aggiungere Degli elementi Quindi abbiamo Tanti elementi Che possiamo Andare ad aggiungere Andiamo su Texture Vediamo Se abbiamo Se abbiamo Qualcosa Che potrebbe Funzionare Qui Non abbiamo Niente Che possa Richiamare Uno specchio In teoria Ci sono Diverse Opzioni Però al momento Non ne selezioniamo Nessuna Vediamo Se riusciamo A lavorare Sulla texture Senza aggiungere Altri elementi Quindi Intanto Con shading Vediamo Che viene Automaticamente Impostata La material Preview Quindi possiamo Già vedere Il materiale Quindi siamo Automaticamente Su questo Tipo di Visuale Per lo specchio Aumentiamo Leggermente Metallico Possiamo Andare a Vedere Se possiamo Regolare Anisotropico Un po' Di lucentezza Volendo Possiamo Andare sul Rendering Per avere Una vista Migliore Possiamo Andare su Trasmissione Ma direi Di no Indice Di rifrazione Abbassiamo Un po' Rugosità Qui Non stiamo Ovviamente Lavorando Su materiali Troppo complessi Quindi facciamo Solo delle semplici Modifiche Vediamo Semplicemente Come funziona Poi L'utilizzo Dei materiali Lo vedremo Meglio Nel dettaglio Nei prossimi Video Quindi qui Stiamo Semplicemente Andando a vedere Come funziona La scheda Shading Quindi che cosa Possiamo fare Una cosa importante Vediamo Dei pallini Colorati Da un lato E dall'altro Lato Quelli sul lato Sinistro Sono Le connessioni In input Quindi possiamo Inviare Un input A questo Elemento Che è il Materiale Del nostro Modello In questo caso Il materiale Specchio Quelli presenti Sulla destra Sono in output Quindi in uscita Quindi viene Inviato All'elemento Stesso Quindi ad esempio Noi possiamo Inviare Degli input Al colore Base Possiamo inviare Degli input A tutti Gli elementi L'importante È che il colore Sia lo stesso Possiamo vedere Che ad esempio BSDF Invia un output In input A superficie Ed è verde Non potrebbe Inviarlo A spostamento Quindi se ad esempio Andassimo su Aggiungi Andiamo su Di nuovo Su texture Possiamo andare Su colore No Andiamo su texture Possiamo aggiungere Vediamo Texture magica Aggiungiamola qui Vediamo che abbiamo In output Colore E Fat Quindi Colore giallo E grigio Quindi il giallo Posso andarlo A collegare Qui Vediamo già Che ha cambiato Colore Perché mi sta Utilizzando Questa texture Magica Posso aumentarne La profondità Quindi va A cambiare Posso Cambiarne La scala Posso Andarla Un po' A distorcere Quindi posso andare A regolare Diverse impostazioni Se non Se non dovesse Più piacermi Posso scollegarla E ritornerà Al colore base Utilizzato In precedenza Il grigio Ovviamente lo posso Associare al grigio Non è detto Che io debba Necessariamente Associare tutti gli elementi Con tutti gli elementi Andiamo a Cancellarla Quindi possiamo In questo modo Aggiungere Diverse texture Se abbiamo delle immagini Possiamo farlo Tramite texture Immagine Quindi per il momento Diciamo Lasciamo così La situazione Quindi andiamo Sulla Texture di base Qui Abbiamo Un Un elemento Un po' Più Plasticoso Diciamo Quindi possiamo Abbassare un po' Lo Speculare La lucentezza Anche in questo caso Possiamo Ridurla Per il resto Possiamo Lasciare Così com'è Passiamo ora Alle sfere Quindi andiamo Su metallo Andiamo proprio Su una delle sfere Andiamo su Aggiungi Texture In questo caso Anche non abbiamo Una texture Utile Vi faccio vedere Ad esempio Selezionando Mattoni Andremo A Creare Un effetto In stile Mattoni Sull'elemento Ovviamente Non ci serve Non è Andiamo a cancellarla Non è Quello di cui abbiamo Bisogno Quindi Vediamo Cosa possiamo andare A Regolare Aumentiamo Aumentiamo L'effetto Metallico La subsuperficie La possiamo Disattivare Aggiungiamo un po' Un effetto Anisotropico Riduciamo Riduciamo Rugosità Aumentiamo Un po' Di lucentezza Aumentiamo Aumentiamo La trasmissione Vediamo che tutto questo ovviamente viene applicato a tutti gli elementi metallici Qui potremmo Quindi luminosità e contrasto al colore Quindi se lo andiamo ad applicare possiamo aggiungere una maggiore luminosità o un maggiore contrasto all'elemento Non ci interessa temporaneamente quindi andiamo a cancellare ho cancellato l'elemento sbagliato Ovviamente se sbagliate potete in qualsiasi momento premere ctrl z e tornare indietro Ritorniamo alla vista layout Andiamo su aggiungi Immagine Images as planes Questo potreste non trovarlo nel vostro elenco perché è un'impostazione che va attivata Per farlo andiamo su modifica Preferenze Da qui abbiamo tutti gli elementi aggiuntivi che possiamo andare ad aggiungere Scorrendo abbiamo importa esporta Import images as planes Quindi attiviamo questa spunta per importare le immagini sui piani Dopo averla attivata Blender potrebbe chiederci di riavviare Cioè riavviare Blender quindi chiudere e riaprire Blender Quindi nel caso salvate il modello sul quale state lavorando E quindi andiamo su aggiungi immagine images as planes Andiamo a selezionare l'immagine Abbiamo delle opzioni preimpostate Lasciamo tutto così e importiamola Ok Ora è stata importata Usciamo temporaneamente dalla vista camera E spostiamo l'immagine sul retro del nostro modello Ritorniamo alla vista immagine E andiamo a modificare ora l'immagine Quindi andiamo su scala e sul cerchio E andiamo a ridurre la scala Ok Usciamo dalla vista Possiamo andare a avvicinare un po' l'immagine Andiamo sulla X Ok Quindi la vista è laterale Non è proprio frontale Quindi potremmo voler girare l'immagine In modo da adattarla alla vista Ok In questo modo possiamo utilizzare delle immagini come sfondo Se andiamo su renderizza immagine Vedremo che adesso c'è uno sfondo Questo perché abbiamo creato un piano E gli abbiamo associato come texture L'immagine utilizzata Queste erano solo alcune delle impostazioni di base Di blender Quindi abbiamo visto come creare un modello Come utilizzare diversi elementi Quindi la sfera Come collegarli tra di loro Qui siamo ancora sulle basi Lo ripeto Quindi non vi preoccupate Se il modello non è perfetto Se quello che state facendo non è perfetto Non è questo ancora il nostro obiettivo Per il momento concentratevi sul riuscire a creare bene i modelli Quindi tutti gli strumenti che stiamo utilizzando Assicuratevi di riuscire ad utilizzarli bene Quindi sapere come creare un'estrusione Abbiamo visto quindi come utilizzare i modificatori Volendo potete giocare anche un po' Facendo un po' di prove con i vari modificatori Alcuni li utilizzeremo nei prossimi video Altri no Quindi potete fare un po' di test E vedere cosa succede utilizzando un modificatore piuttosto che un altro Anche per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali Non ho voluto andare troppo sul complesso Quindi ho mantenuto il più semplice possibile Quindi abbiamo visto che da shading possiamo comunque gestire i materiali Poi vedremo come gestirli meglio Quindi vedremo proprio come creare materiali più realistici rispetto a quelli fatti finora Al momento ho pensato di creare degli oggetti Che possiamo utilizzare in un'unica scena Quindi nello scorso video abbiamo creato una libreria Adesso abbiamo creato un oggetto che potrebbe andare su quella libreria Quindi possiamo poi posizionare effettivamente questo oggetto sulla libreria Quindi possiamo poi andare a creare un'unica scena finale Con i modelli che stiamo andando a creare nei vari video Ovviamente li andremo poi a migliorare E avere quindi un risultato finale più realistico e con un effetto migliore Quindi intanto ti ricordo che puoi inviarmi il tuo modello E lo caricherò sul sito web Per questo video è tutto Se il video ti è piaciuto metti like In questo modo mi aiuti a capire quali sono i contenuti che vi interessano maggiormente Inoltre se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale Attiva la campanella così non perderai tutti i miei prossimi video Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine Come sempre per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento Puoi scrivermi nei commenti E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao